Normalmente durante la fase di post-produzione del mio scatto mi piace andarci in maniera abbastanza pesante. Delle volte però, se siamo fortunati, capitano delle condizioni che sono talmente belle che è come se la foto fosse già fatta e finita. Ed è proprio quello che mi è successo l'altro giorno finché mi trovavo a fotografare l'alba, dove grazie alle condizioni uniche ho potuto fotografare una scena in cui la natura aveva praticamente già fatto il lavoro di post-produzione al posto mio. E quindi nel video di oggi vi mostrerò come ho fatto a creare due versioni di questo scatto. Una prima versione dove è stato fatto il minimo indispensabile, cioè dove è stato spostato un solo cursore su Lightroom e una seconda versione, quella che farei io per intenderci. Leggermente più elaborata ma che comunque mantiene uno stile abbastanza conservativo. Eccoci con la nostra immagine che come potete vedere ritrae una condizione veramente ideale, con queste nuvole basse che aiutano a creare un'atmosfera più sognante e soprattutto che aiutano a isolare il soggetto, ovvero questo pilastro di roccia. E se ci fate caso, a livello di toni abbiamo praticamente già tutto al posto giusto. La luce che entra e colpisce il nostro soggetto, rivelando questi bei dettagli sulla roccia. Le nuvole che aiutano a rendere la luce più intensa dove serve, ovvero in questa zona qua. E infine il primo piano composto da questi alberi, che restando in ombra non rubano troppa attenzione al soggetto principale dell'immagine. L'unica cosa che manca, e ce la dice il nostro istogramma, è un po' di vita ai toni più chiari della foto, che attualmente risultano un po' spenti e grigiastri. Per sistemare questa cosa quindi ci basterà prendere la voce bianchi ed alzarli di una cinquantina di punti. Quindi prendiamo e portiamo a un valore intorno ai 58 punti. In questo modo abbiamo reso l'immagine più dinamica e viva, mantenendo allo stesso tempo il corretto peso degli elementi. E nel giro di veramente qualche istante siamo riusciti a finalizzare una foto che secondo me già così risulta molto gradevole. Ora facciamo finta di voler ottenere il massimo dalla nostra immagine investendo un po' più di tempo e di impegno in fase di editing. Per prima cosa vado a lavorare sul pannello base e come prima operazione voglio andare ad abbassare le luci a meno 100 in modo da rendere un po' più dettagliate le nuvole. Poi siccome sono pignolo porto i bianchi a più 55 perché mi piace utilizzare dei multipli di 5. Vado poi a lavorare sui toni più scuri dell'immagine e quindi prendo le ombre e le alzo di una trentina di punti e faccio altrettanto con i neri in modo da avere un'immagine globalmente un po' più piatta e in modo da aprire un po' i dettagli in questa zona qua. Infine dalla voce esposizione vado ad abbassare giusto di uno 0.10 stop e vado già adesso ad applicare un bel contrasto all'immagine portandolo a circa una quarantina di punti e vediamo in che modo è già variata la nostra foto dall'inizio. Adesso mi sposto sul pannello impatto prendo la chiarezza e la alzo di una quindicina di punti soprattutto perché voglio avere un po' più di forza sulla texture di questa roccia qua e però vado a controbilanciare l'effetto abbassando la texture sempre di 15 punti in modo da renderlo un po' più morbido e meno evidente. E infine per quanto riguarda il colore vado a dare un po' più di vitalità e un po' più di colore all'intera immagine quindi prendo la vividezza la porto a più 20 e la saturazione e l'alzo di una decina di punti. Facciamo velocemente un prima e dopo e vediamo come con poche semplici operazioni siamo già riusciti a creare un'immagine molto più viva e molto più coinvolgente. Volendo però c'è ancora un po' di lavoro da fare quindi per prima cosa mi sposto sul pannello mixer colori vado sulla voce luminanza e vado ad agire sui colori responsabili sempre della nostra montagna. Voglio renderla un po' più evidente quindi prendo il giallo e lo alzo di una decina di punti e faccio lo stesso con l'arancione. Non voglio esagerare perché questi sono cursori che vanno ad agire anche sulle nuvole e se esagero dopo rischio di creare degli effetti un po' troppo forti isolati in questa zona. Poi nel pannello saturazione prendo il giallo lo alzo di una decina di punti e gli arancioni e li alzo circa di una quindicina di punti e infine nel pannello tonalità prendo il giallo e lo shifto leggermente verso un arancione portandolo a meno 5. Chiudo il pannello mixer colori e mi sposto nel pannello color grading. Per prima cosa sulle ombre vado a prendere un colore abbastanza freddo intorno ai 220 e aumento veramente pochissimo giusto di un 2 punti la saturazione e infine vado a recuperare un po' più di toni scuri portando la luminanza a più 10. Poi mi sposto nel pannello dei mezzi toni che vado a sfruttare solo per la luminanza e la alzo di circa una trentina di punti così e infine nelle luci vado sia a scaldare che a contrastare quindi saturo al 100% per capire che colore sto campionando porto un'altra età intorno a un colore abbastanza giallino diciamo di circa una cinquantina di punti va bene e la saturazione adesso la abbasso quanto serve per ottenere l'effetto desiderato diciamo che in questo caso ci può bastare una decina di punti e infine alzo anche la luminanza sempre di una decina di punti a questo punto siamo pronti per fare giusto tre livelli di numero per andare a finalizzare l'immagine per prima cosa prendo come predefinito una vignetatura soft che semplicemente è un filtro radiale a cui ho applicato questi valori per rendere la vignetatura veramente molto morbida e delicata cosa importante però vado a sottrarre con una sfumatura radiale questa zona qua dell'immagine in modo da non scurirmi l'ingresso della luce e soprattutto vado anche a sfumare più cento per rendere l'effetto più morbido e meno evidente poi mi prendo un pennellino perché voglio andare a enfatizzare tutta questa zona qua centrale per dare più enfasi alla luce che entra quindi con la voce luci alzo di una settantina di punti e anche applico giusto un paio di punti di temperatura colore gialla giusto per rendere la luce più calda e adesso vado a spennellare in questa zona stando sempre molto delicato e molto attento a questa nuvola che è già molto vicina al limite della bruciatura e vado a spennellare un po' di luce in tutte queste zone qua dove voglio che cada il mio occhio facciamo velocemente un prima e dopo possiamo andare a insistere ancora un po' qua qua un po' tagliato quindi cancello leggermente l'effetto ok e come ultima maschera vado a prendere un intervallo colore mi zoom bene sempre sul soggetto mi campiono questo colore qua e una volta averlo campionato torno indietro prendo l'esposizione l'alzo di uno 0,10 prendo le luci e le alzo di circa un 25 punti e infine anche un po' di saturazione per dare colore e con questa maschera vado a enfatizzare ulteriormente la luce che colpisce questa zona qua e quindi la mia montagna cosa molto importante però voglio applicare questa maschera solo appunto in questa zona quindi tenendo premuto il tasto option schiaccio su interseca seleziono una sfumatura radiale e in questo modo posso circoscrivere il mio effetto solo alla zona in cui applico il mio filtro radiale e a questo punto facciamo velocemente un prima le nostre maschere e un dopo chiudiamo il pannello mascheratura e andiamo a finalizzare l'immagine prendendo per prima cosa lo strumento cerottino e andiamo a eliminare questa zona qua in basso a sinistra priva di albri che secondo me è un po' distrae quindi andiamo ad aggiungere degli altri albri per riempire quel vuoto chiudiamo e infine nel pannello dettagli andiamo ad aumentare leggermente il fattore di una sessantina di punti abbasso il raggio alzo il dettaglio e tenendo premuto il tasto option porto la mascheratura intorno a una trentina di punti chiudo la scheda dettagli e la nostra immagine è ufficialmente ultimata vediamo velocemente un prima e un dopo quindi ragazzi quando avete la fortuna di imbattervi in delle condizioni meteo particolarmente favorevoli allora saprete già che molto probabilmente una volta essere tornati a casa vi aspetterà poco lavoro mentre nel caso in cui vi dovesse capitare di trovare delle condizioni meteo non proprio favorevoli allora sapete già che molto probabilmente vi aspetterà un po' di lavoro in fase di post e sono sicuro che in casi simili vi interesserà questo video qua in cui vi svelo la mia formula in 5 step per editare paesaggi incredibili come sempre mi raccomando state focused e noi ci vediamo alla prossima avventura